Si occuperà di prevenzione di agnosi e cura il centro regionale per la fibromialgia istituito presso la clinica reumatologica dell'Università Politecnica delle Marche nell'ospedale Carlo Urbani di Iesi. Le Marche sono la prima regione a dotarsi di un centro dedicato a questa patologia che interessa 2 milioni e mezzo di persone in Italia e secondo le stime più di 30 mila marchigiani. Colpisce soprattutto le donne tra i 35 e i 60 anni. Il centro si occuperà di gestire e coordinare il registro regionale dei soggetti affetti da fibromialgia e sintomi correlati quali la sensibilità chimica multipla e predisporre specifici protocolli per la presa in carico dei pazienti. Una ricaduta importante sulla pessima qualità di vita che questi pazienti hanno in quanto si tratta di una sindrome da dolore cronico diffuso cioè i pazienti soffrono di dolore diffuso con una serie di sintomi associati particolarmente invalidanti quali per esempio i disturbi del sonno, la stanchezza, la facile stancabilità, i disturbi neurovegetativi in particolare disturbi a carico dell'apparato digerente quali il colon irritabile, disturbi a carico dell'apparato urinario quali la vescita interstiziale e in più una ripercussione importante sul piano emozionale per cui si parla di fibrofoc cioè una alterazione della sensazione del benessere di questi pazienti l'assenso di perdita della memoria, la memoria soprattutto recente, difficoltà alla concentrazione insomma una serie di sintomi estremamente invalidanti fra cui rientrano anche quelle della intolleranza chimica multipla in questi pazienti che possono ovviamente determinare una pessima qualità di vita. e quindi averlo come dire individuato, un centro che è in grado come dire di coordinare l'attività che è in grado anche di lavorare ad un percorso diagnostico-terapeutico condiviso è importante, averlo fatto appunto a Iesi è secondo me importante per il fatto che Iesi è già sede come dire della clinica reumatologica.